Oggi è la festa dell'esaltazione della croce. La croce è un mistero, è un mistero di salvezza ed è un mistero che ha provocato sempre sconcerto, sofferenza, fede. La fede nella salvezza che Gesù ha operato nella croce ha prodotto miracoli artistici, miracoli di fede per l'appunto. C'è un santo, San Luigi Grignon de Montfort, che ha passato la vita essendo perseguitato. Il libro che ha scritto è finito nel dimenticatoio e lui l'aveva predetto che delle belve avrebbero impedito la pubblicazione e avrebbero rinchiuso quel libro, l'ha nascosto. Infatti quel libro è stato nascosto in un baule per più di cento anni prima di essere pubblicato. È il libro che parla della via a Gesù attraverso Maria. Giovanni Paolo II era un cultore di quel libro, seguiva quel libro. Grignon de Montfort ha fatto anche, questo è meno noto, dei calvari. Andava, predicava in Bandea, predicava ai poveri e costruiva a grandezza naturale su dei colli i calvari. Calvari che, guarda caso, questo succedeva all'inizio del Settecento, che, guarda caso, venivano distrutti dal Ministero della Guerra perché erano pericolosi, evidentemente. E io mi voglio, più dodicesimo, ha legato alla predicazione di Grignon de Montfort e anche alla costruzione dei calvari, la resistenza della Bandea, eroica resistenza della Bandea, all'epoca della Rivoluzione Francese. Io ho esperienza, a parte in Italia abbiamo tanti, Monti Galvario, Varallo è il più noto, ma ce n'è uno, che a me è molto caro, perché io ci vado tutti gli anni, che sta in Valbadia, il santuario della Crusc in Ladino, della Croce. Questo santuario è bellissimo perché sta proprio sotto, in alto, sotto alle Alpe di Fane, se si affaccia a tutto il panorama splendido della Valbadia, a cominciare dal Putia e poi tutti i monti, le Oddle che si vedono in lontananza. Questo santuario ha al vivo, meraviglioso santuario, ha al vivo la rappresentazione del Calvario, grandezza naturale, proprio sul punto più alto di questo colletto, dove c'è il santuario, c'è il Calvario, con tutti gli strumenti della croce e dell'orrore che ha provocato la crocifissione di Gesù. Ma per arrivare a questo Calvario c'è un sentiero che parte da San Cassiano e che verso la fine ha le 14 stazioni della Via Crucis dipinte sul legno dai montanari che le hanno dipinte con una profondità di fede mettendo in laddino, ognuna di queste icone del Calvario, in laddino la frase corrispondente. Ce ne sono di meravigliose. Questo per dire che la fede nella salvezza che porta la croce ha suscitato amore. Questo amore ha portato ad esprimersi in tutte le forme artistiche possibili dalle più umili, che però sono in un certo senso le più intense, le più commoventi, le più artistiche riccamente. La festa dell'esaltazione della croce.